C'è un carabinieri, è entrato il dottore e fa Il dottore c'è una bronchite tremenda Il dottore gli fa, venga che l'ha vista La mette sul tavolo, le mette lo stereoscopio Lo sento, dica 33 Perfetto, ha una grande bronchite Faccia così, prenda questo sciroppo due volte al giorno Mi raccomando, e non più di 10 sigarette al giorno Va bene? Grazie E se ne va Dopo una settimana fa i segreti controllo Entra il dottore e fa, come va? Lui fa, non sto peggio Ma come peggio, mi faccia sentire Questo guarda, effettivamente sta peggio Ha preso lo sciroppo due volte al giorno Ditto a tu E solo 10 sigarette al giorno Ma prima quanto fumava? E prima fumavo